1.500 giorni fa ci siamo messi in cammino e da allora l'Italia è diventata più forte e migliore. I numeri non si possono discutere, i parametri economici sono tutti migliorati. La ricchezza prodotta dal paese, il numero degli occupati, la produzione industriale, la fiducia delle famiglie e delle imprese. Le esportazioni e l'avanzo della bilancia commerciale sono ai massimi storici, le tasse sono diminuite e soltanto nel 2017 abbiamo recuperato 20 miliardi dall'evasione fiscale. Abbiamo approvato leggi che hanno fatto dell'Italia un paese più civile, il biotestamento, il divorzio breve, il dopo di noi. La legge contro la tortura, il caporalato, il femminicidio. Abbiamo vietato le dimissioni in bianco. Abbiamo approvato leggi contro lo spreco alimentare e il consumo di suolo. Abbiamo riformato il terzo settore. Grazie alla legge sulle unioni civili oggi in Italia tutte le famiglie hanno la stessa dignità, anche la mia. Siamo stati una squadra di governo seria e affidabile, che ha restituito al paese forze in Europa e credibilità internazionale e che ha anche ridato dignità alla democrazia e alla politica perché ha dimostrato che non è vero che in questo paese i problemi li risolvono solo i governi tecnici. C'è ancora tanto da fare, ma alle promesse degli altri noi rispondiamo con i risultati di questi anni di governo e con un programma forte ed è su questo che chiediamo la vostra fiducia. Per un'Italia ancora più forte, per un'Italia ancora migliore. Io sono Ivan Scalfarotto, sono candidato a Milano per il Partito Democratico alla Camera dei Deputati e in questi anni di governo mi sono occupato di riforme, dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e di diritti civili. Il 4 marzo vota Partito Democratico. L'Italia in buone mani. Partito Democratico. L'Italia in buone mani.